sembra sorridente senza il suo arrivo all'olimpico dopo una settimana difficile ecco la panuelada agitano i tifosi della roma vicini al loro presidente un grande della roma del passato bella questa immagine e la sud si appella al capitano della roma di oggi il perugia tipo per cosmi l'arbitro è bolognino Cafu dalla bandierina stacco di Emerson ma Zantini comincia così la sua strepitosa giornata all'olimpico giornata di freddo e di pioggia Liverani grande spunto lascia sul posto due avversari poi fuori con il sinistro ha protestato al quindicesimo il perugia per un intervento di Zago su Materazzi che dice all'arbitro non hai visto si disinteressa della palla a Zago e spinge il capitano del perugia poi Tommasi toccato da Tedesco al momento della conclusione assist involontario per Batistuta Mazzantini per la deviazione in calcio d'anno Totti va a cercare Samuel colpo di testa ancora una parata super di Mazzantini problemi al ginocchio destro non nuovi peraltro per Mazzantini ne approfitta di questa pausa Capello per dare istruzioni a Totti non punito con il cartellino giallo l'intervento intenzionale con il braccio da parte di Pieri poi Candelà Totti per Cafu Roma tratti tambureggiante nel primo tempo ancora una volta attento Mazzantini a coprire sul primo palo calcio d'angolo Cafu di nuovo Samuel sfiora il bersaglio ecco il suo rammarico è possibile che non ne prendete una in difesa dice Cosmi al reparto difensivo in particolare a Rivalta poi Batistuta forse Rivalta con un braccio poi l'uscita di Mazzantini giù del vecchio tutto ok per Bolognese molto ravvicinato Rivalta con il braccio sinistro sul colpo di testa di Batistuta poi arriva prima del vecchio Mazzantini frana sul numero 24 della Roma Totti carica il sinistro Mazzantini in due tempi insuperabile il portiere del Perugia e poi Baiocco gli concede spazio la Roma Baiocco estrae un destro memorabile per il suo primo gol in Serie A grandissima esecuzione niente da fare per Antonioli palla sotto l'incrocio dei pali complimenti dei compagni della panchina Baiocco al rientro negli spogliatori c'è Montella nella Roma al posto di Del Vecchio si mette subito in evidenza Montella con il sinistro poi la grinta di Batistuta consente alla Roma un recupero di palla Totti Candela c'è l'intervento in scivolata di Di Loreto Candela vuole il calcio di rigore in effetti è arrivato primo Candela sulla palla poi Totti destro e palla nell'angolino basso per il pareggio una dedica ad un amico fraterno calciatore della Lodigiani anche fortunato perché il destro trova la deviazione di Materazzi conclusione che finisce nel sacco dopo l'effetto di giro e poi Batistuta che non sfrutta un assist di Montella le mosse di Cosmi Blasi per Vrizas Milanese per Pieri bella scenetta dopo un brutto fallo chiede così scusa a Totti dentro Zanetti al posto di Rinaldi che era stato messo in campo visto i problemi muscolari di Zebinà era diffidato Samuel peraltro impegnato con la nazionale dunque salterà il prossimo impegno della Roma ed ecco Cafu troppo esterno questo suo destro la Roma ha protestato anche per un intervento di milanese su Battistuta che stava per tirare partita che non finisce di emozionare clamoroso l'errore di Antonioli Saudati è lì e girandosi non sbaglia riportando in vantaggio il Perugia forse l'errore più grave nella carriera di Antonioli con la Roma prima in classifica davvero pesante questo infortunio dopo il colpo di testa di Zago Saudati per un facile gol è Zago che cerca di incoraggiare Antonioli i fischi della sud ad Antonioli ed ecco come si comporta il capitano della Roma cosa fate? dice ai tifosi più accesi della Roma ricordatevi che siamo primi in classifica una rapida occhiata all'orologio da parte di Capello intanto è arrivato il sole Montella grande occasione prova la conclusione defetto di giro con il sinistro poi Mazzantini perde tempo una rimessa da fondo campo viene ammonito era diffidato ed eccoci in zona recupero all'episodio che ha scatenato le proteste del Perugia la palla finisce in rete per il pareggio della Roma ma protestano subito i giocatori della squadra Umbra deve tirare fuori il carterino giallo il direttore di gala rivediamo nel montaggio di Davide Cortoni Montella intenzionalmente eccolo il momento sposta la palla con la mano destra poi in caduta Tedesco colpisce con la punta del piede e la palla finisce in rete Materazzi scatenato nelle proteste nei confronti del primo collaboratore del direttore di gara poi anche Totti che era diffidato viene ammonito scatterà la squalifica saluta i tifosi del Perugia Cosme al fischio di chiusura ma è davvero arrabbiatissimo e ancora le proteste del capitano